Tutta Bargara, chiusa in un silenzioso e forte dolore, ha reso l'ultimo saluto a Nicola Corti, l'operaio barghigiano di 50 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi alla KME di Fornaci. Non un sabato qualunque, quello vissuto nella cittadina dove il solito scorrere della vita del giorno prefestivo e di mercato, non è riuscito a rendere meno greve l'atmosfera cupa, con i volti tristi e con il dolore delle tantissime persone che hanno preso parte al suo funerale, svoltosi all'esterno della chiesa del sacro cuore. Gente di Barga, amici, colleghi di lavoro, sindacalisti e dirigenti della fabbrica di Fornaci, tutti lì per l'ultimo maggio a Nicola, rinchiuso in quella bara, sormottata da rose rosse, dalla sciarpa e dai palloncini bianchi e azzurri, ricordo della sua fede calcistica per la Lazio. Della metallurgica c'era il presidente del gruppo KME, Vincenzo Manes, la vicepresidente di Iva Moriani, il direttore generale operativo per il sud Europa, Michele Manfredi, il direttore dello stabilimento Manuele Fanucci, nutrita anche la presenza dei sindacalisti di Wilm, Fium e Fim, c'era la sindaca del comune di Barga Caterina Campani, ma soprattutto c'erano i tanti amici barghigiani di Nicola, che si sono ritrovati attorno alla moglie Rachele, alla bimba Giorgia, alla mamma Antonia, che hanno abbracciato tutti sempre con un sorriso. Uno striscione lungo la strada riportava questa scritta, omaggio degli amici che con lui negli anni Ottanta avevano condiviso la passione per la musica, sfociata in due gruppi musicali, e che così lo chiamavano. Dunque ciao leader, ciao Nicola.